Andrea Dovizioso vince sul circuito austriaco di Spielberg il Gran Premio Omonimo, tredicesimo appuntamento delle moto mondiale 2017. Una gara intensa e ricca di colpi di scena insieme a Marc Marquez. Lo spagnolo partito in Nampul si deve accontentare di un secondo posto amaro. La gara è stata in intensa, vibrante per tutti i 28 giri. L'attesa era anche per Valentino Rossi che doveva riscattarsi dopo la Repubblica cieca ma per il dottore è stata una giornata no. Chiudendo come aveva concluso con il settimo posto. La gara tra Dovizioso e Marquez è stata intensa, spettacolare, fatta di sorpassi e controsorparsi fino all'ultima curva del tracciato quando con una manovra azzardata il pilota italiano riesce a far sua la gara. Con questo risultato Marquez rimane in testa al Mondiale con 174 punti ma Dovizioso sale a quota 158. Prossimo appuntamento il 27 agosto in Inghilterra. Nino Siena, Speciale News.